Non è tempo di rimballi di responsabilità, ma di assunzioni di responsabilità e per questa ragione noi chiediamo che la Polizia identifica al più presto i delinquenti, oggi ben identificabili con le foto, la Magistratura le assicura la giustizia, ma soprattutto il Parlamento intervenga con una specifica e speciale legislazione che prevede nuove figure di reato, che preveda aumenti di pena per i reati già previsti, che preveda possibilità di fermi arresti obbligatori in casi del genere e riti direttissimi per assicurare alla giustizia con pene esemplare affinché non si è costretti dopo tre giorni a doverli mettere fuori per mancanza di una legislazione adeguata. Grazie a tutti!